in questo video vi volevo mostrare gli acquisti che ho fatto dall'Avon non sono tantissimi ma ci tenevo a mostrarveli allora come primo prodotto ho acquistato questo pennellino per le unghie per farci le nail art però secondo me è comodo anche per mettere l'eyeliner quindi prima di utilizzarlo per gli smalti penso che lo proverò per mettere l'eyeliner, si è anche rotto, l'astuccino però va bene poi ho acquistato due rossetti e ho acquistato Ruby Kiss e Marvelous Mocha allora Marvelous Mocha è questo, bellissimo nude e siccome non avendo un nude solo che è Velvet Teddy ho detto vabbè acquisto anche questo così almeno sono molto simili quindi ho detto in mancanza di quell'altro uso questo e Ruby Kiss è questo bellissimo color corallo non so quanto potete vedere ecco sono due rossetti matte io direi che questa collezione sono anche quell'altro che si chiama, non me lo ricordo però comunque ve lo metterò giù nell'equo box e come ultimo prodotto ho acquistato questo profumo che si chiama Rare Perce è molto fresco e delicato e mi è piaciuto subito tantissimo il profumo e ho detto lo prendo niente ragazzi questo qua era un video velocissimo spero che vi siano piaciuti i prodotti che ho acquistato e ci vediamo presto i nuovissimi video